In questa puntata, premiazione degli azzurri Fipsas, ben 101 medaglie in campo internazionale. 31esimo trofeo Pasinetti, la gara di apertura della stagione agonistica della pesca al colpo. Memorial Van Den Haide, grande successo per questo importante trofeo che quest'anno si è svolto nel Canal Bianco. Surfcasting, partiti i campionati con i trofei d'eccellenza Nord e Sud. Hockey Subacqueo, in Sudafrica il campionato mondiale di questa vincente disciplina e tante altre notizie dal mondo Fipsas. Cari amici, benvenuti a questa prima puntata di questa edizione 2016 del TG Fipsas, un telegiornale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque completamente rinnovato, soprattutto per quanto riguarda la conduzione. Infatti avrete notato che abbiamo ricevuto il testimone da Stefano Bastienacci e qui presenti ci siamo io, Luca Caslini e Michela Malossi e siamo sicuri che avremo delle notizie davvero interessanti da darvi. Come ho detto, prima puntata abbiamo tantissima carne al fuoco, quindi non mi dilungherei oltre e passerei subito a parlare della prima notizia della puntata. Parliamo della premiazione degli azzurri Fipsas. Sabato 11 marzo nel Salone d'Onore del CONI a Roma si è svolta l'annuale premiazione della Fipsas. Vediamo il servizio. 11 marzo nel Salone d'Onore del CONI a Roma si è svolta l'annuale premiazione della Fipsas per colori i quali abbiano vinto medaglie in competizioni internazionali di pesca, subacquea e nuoto pinnato. L'impressione che ne ha ricevuto chi era presente è stata quella che di pescatori, di subacquei e di nuotatori con pinne come gli italiani nel mondo ce ne siano davvero pochi. 101 medaglie internazionali vinte nel 2015 sono veramente tante, la carica dei 101 appunto. Un record difficilmente eguagliabile e superabile, ma non per questo chi fa parte di questa federazione che fa onore al CONI e all'Italia dello sport non ci proverà. I primati sono fatti per essere battuti, ha detto Stefano Bastianacci, che conduceva la manifestazione e il concetto è stato ribadito dal presidente Matteoli, impressionato ma anche un po' emozionato alla vista della marea azzurra che aveva di fronte. 101 medaglie, delle quali 45 provengono dalla pesca sportiva, una dimostrazione di forza che nessun'altra federazione sportiva italiana può vantare. Sicuramente altri sport hanno un appeal maggiore di quello della pesca, un seguito di pubblico superiore, un'attenzione dei media costante e talvolte anche esagerata, ma nessuna di queste porta tanto oro, argento e bronzo come la Fipsas. La nostra federazione nel 2016 ne ha portate 101, vinte su tutti i campi di gara del mondo e anche questo è un punto d'orgoglio perché una pista per correre o una pedana per saltare sono uguali ovunque. Possono essere leggermente diverse le condizioni ambientali ma è un particolare di scarsa rilevanza. Enormemente differenti tra loro invece sono i campi di gara di pesca sparsi per il mondo su cui si trovano a gareggiare i pescatori e lo sono per un numero altissimo di varianti. E se su tutti i campi gli italiani primeggiano questo vuol dire qualcosa. Non c'è il fenomeno isolato che vince perché madre natura gli ha dato dei mezzi eccezionali ma che ha un desolante vuoto alle spalle. Qui c'è quella che Matteoli ha definito una valanga azzurra che non teme confronti in alcuna parte del mondo. Non sappiamo se nel 2016 potrà essere ripetuta l'eccezionale performance delle 101 medaglie ma un fatto è certo ed è che negli anni precedenti non è che fossero 15 o 20 erano comunque 80 o 90 a conferma che l'altissimo livello raggiunto è ormai una costante consolidata. Pensate che l'esaltazione di questa medaglia sia un po' retorica ha detto Matteoli benvenga per una volta. Questo è il peso mondiale della nostra federazione. Di particolare rilevanza la location in cui si è svolta la premiazione il salone d'onore del CONI rappresenta infatti il cuore dello sport italiano e quella della Marea Azzurra è stata una vera e propria occupazione che richiedeva a causa del gran numero di atleti, dirigenti, tecnici e accompagnatori uno spazio molto ampio che è stato appena sufficiente a contenerli. L'organizzazione dell'evento è stata curata in modo perfetto dai dipendenti della federazione a cui il pubblico ha dedicato un lungo applauso, anzi una vera e propria standing ovation di ringraziamento non solo però per l'ottima riuscita della manifestazione ma anche per tutto il lavoro svolto per preparare gli eventi agonistici a cui la FIPSAS partecipa in tutto il mondo. Al termine della premiazione tutti gli intervenuti sono stati invitati al sontuoso buffet di chiusura. Passiamo ora a parlare di feeder con la prima prova del trofeo di eccellenza Nord feeder c'è stata una vittoria della società Lanza di Como nella prima prova appunto che si è svolta domenica 20 marzo sul classico campo gara del Canal Bianco a Pianta Melon. È stata organizzata ottimamente dalla società pescatori Padovani Tubertini e il campo di gara si è confermato all'altezza della situazione come già in altre occasioni. Un pescato più che accettabile e punteggi che in molti casi hanno superato quota 10.000 punti. Fitta nebbia nelle prime ore del mattino che non ha certo scoraggiato i concorrenti che hanno impostato la pesca entro i 20 metri anche a causa della forte corrente utilizzando pasturatori del tipo open-end di peso importante. In certi casi sono stati impiegati i pasturatori anche intorno ai 90 grammi. La gara prevedeva l'impiego di fuil e verdevas come innesco. Chi ha saputo gestire con maestria le piccole larvette rosse ne ha ricevuto un vantaggio innegabile anche in considerazione che le prede del Canal Bianco sono costituite prevalentemente da brem specie particolarmente sensibile a queste esche. Ampia la scelta sul tipo di impiego dei concorrenti che hanno impongato la terra e altri invece che hanno preferito inserirlo nella terra di rivière bloccandola con i classici tappi di pastura. In molti casi tuttavia largo è stato l'impiego di esche più classiche come vermi e bigattini. Dissoltasi la nebbia, una bella giornata di sole ha allietato i concorrenti e al termine delle ostilità è risultata vincitrice con 5 penalità e quasi 39 kg di peso la società lariana della ADPS Lanza, composta da volti notissimi dell'agonismo nazionale. Luca Pera e Giuseppe Cipolla, forte del miglior rendimento dello scorso anno nella specialità feeder, Traversoni Mario e Colombo Massimiliano. Al secondo posto con 7 penalità la ASD Futura 2000 Colmich. Come la squadra di Pera, anche per la Futura 2000, 3 primi di settore e un ottimo score a testimonianza della regolarità del campo di gara. Sul gradino più bassa del podio, staccata di 3 penalità, la ADS Team LBF Italia, Fishing Italia Preston, in grande evidenza con 3 secondi di settore e un quarto. La classifica di giornate a squadra, appunto, vede prima in classifica la società Lanza con 5 penalità, seguita dalla Futura 2000 Colmich con 7, Team LBF Italia Preston con 10, Gatto Azzurro Colmich sempre con 10 e Lenza Club Mogliano Preston con 14. A seguire altre importanti squadre. Torniamo ora a parlare di Pesca al Colpo. Domenica 3 aprile si è svolta la 31esima edizione del Trofeo Pasinetti, classica di apertura dell'agonismo di Pesca al Colpo. Per voi questo servizio. Domenica 3 aprile si è svolta la 31esima edizione del Trofeo Pasinetti, classica di apertura dell'agonismo di Pesca al Colpo e della specialità del feeder, ormai entrata a far parte integrante di questa manifestazione. Il campo di gara, anche quest'anno, è stato il Canal Bianco, nel tratto di Pianta Melon per il feeder e nel tratto Fronte Chiatte per la Pesca al Colpo. La scelta di questo campo di gara appare ormai obbligata, visto che il risultato tecnico, cioè la quantità del pescato, non delude mai. Nella giornata di sabato si è svolto il Test Match, che ha visto la partecipazione di un gran numero di iscritti, dai quali si sono ottenuti i nomi dei partecipanti a completamento del Pasinetti, sia per la specialità colpo che per il feeder. Il Test Match, dato il numero dei partecipanti, si è svolto su due sponde ed è subito balzata agli occhi la notevole differenza di pescosità tra la sponda delle chiatte e quella opposta, a netto favore della prima. Dove si sarebbe svolta la gara principale, invece, la pescosità è stata piuttosto discontinua e anche piuttosto bassa, soprattutto nei settori più a valle. Abbastanza soddisfacente, invece, è quella di Pianta Melon, dove comunque la pesca apparsa più produttiva è stata quella presso la sponda opposta. Il Pasinetti è dunque partito con un po' di dubbi, soprattutto per la pesca a colpo, ma per fortuna la pescosità ha subito un notevole miglioramento rispetto al giorno precedente, anche grazie a scelte più mirate, come, ad esempio, la pesca a 6-7 sezioni di canna, risultata molto più produttiva rispetto a quella fatta alla massima distanza. Solita pasturazione pesante all'inizio e poi richiamo fatto per lo più a terra e fuel, pescando con grammature piuttosto leggere rispetto al consueto. L'effetto della marea, infatti, non si è fatto sentire più di tanto e questo è stato uno dei motivi per cui alcuni hanno ipotizzato una certa discontinuità in alcuni tratti. Scorrendo le classifiche, tuttavia, non si può non sottolineare il fatto che gli specialisti di questo campo di gara si sono messi in evidenza, sia nei settori più ricchi di catture che, come in quelli, a pescosità minore. Segno evidente che c'è chi ha inquadrato la pesca in maniera ottimale. Il discorso appena fatto vale anche nel tratto dedicato alla pesca a feeder, dove gli specialisti hanno imposto la loro legge. Buono anche il punteggio con i primi di settori che hanno superato tutti i 5.000 punti nelle 4 ore di gara. Per quanto riguarda la pesca a colpo, il vincitore della manifestazione è risultato govigino dell'amo Sant'Arcangiolese Colmice, che ha vinto il suo settore con 12.870 punti. Govi ha superato un grande Tino Pagliari di poco più di 400 punti, mentre sul gradino più basso del podio è salito il vincitore dello scorso anno, Schiesaro Giampaolo. Nel settore feeder ha vinto un grande della specialità, Canaccini-Andrea, con ben 14.290 punti. Il forte agonista, in forza all'Oltrarno Colmice, ha preceduto Michele Capoccia della Lenza Emiliana Tubertini e un altro grande del feeder, Mazzetti Marco. Ottimo anche il primo posto del presidente del settore Acque Interne, Maurizio Natucci, giunto quarto assoluto. Ottima l'organizzazione della futura 2000 Colmice, che ha curato la manifestazione nei minimi particolari e che si è conclusa con il pranzo e la premiazione di chiusura avvenuta nei locali dell'autodromo di Adria. Diciamo che è stata, è venuta fuori una bella pescata, ecco, una pescata sui 12.800, un lavoro del genere, insomma. Che cosa hai preso? Tutto è brando. Tutto è brando, sì. Taglia? Una taglia medio con un qualche bel pezzo intorno agli 700-800 grammi. Io penso che sia doveroso fare un grande applauso a Stefano Bastianacci per tutto quello che ha fatto in questi anni. Ma bello forte. Grazie Stefano. Al prossimo anno, ragazzi. E ora parliamo di una notizia che riguarda il mondo femminile. Il 4 e il 5 marzo scorso, sui campi di gara di Terracina e Sabaudia, si è svolto il campionato italiano femminile di surfcasting, organizzato dal Latina Casting Club. La competizione era valida anche come qualificazione al club azzurro. Hanno partecipato 10 concorrenti appartenenti a 9 società. Purtroppo le difficili condizioni meteo hanno pesantemente condizionato la gara. Tuttavia, un po' di catture sono state effettuate dalle atlete in gara. Una prova che ha messo le concorrenti in una situazione molto simile a quella che troveranno, se entreranno in nazionale, nelle acque irlandese dove si effettuerà il mondiale. Al termine delle tre prove è risultata vincitrice Francesca Brunetti del team Gran Pescature di Latina, che con quattro penalità, due primi e un secondo, ha superato Martina Di Prospero dell'SC Marlin Club di Latina. 11,5 penalità. Sul gradino più basso del podio è salita Manuela Pasquali del surfcasting adriatico, staccata solo di mezza penalità dalla seconda. E parliamo ora di long casting. Infatti, il 9 e il 10 aprile, sul campo di gara di Castel San Giorgio, si è svolto il Club Azzurro 2016, per la specialità appunto del long casting, prova organizzata dalla AS di Etruria Fishing. 15 i partecipanti della manifestazione che hanno dato i seguenti risultati. Per la categoria 175 grammi, primo classificato è risultato Francesco Di Gaetano con 250,10, secondo Francesco Del Nero con 246,53 e terzo Sandro Trasolini con 241,38. Nella categoria dei 150 grammi, primo classificato Francesco Del Nero con 261,88, secondo Sandro Trasolini con 257,53 e terzo Francesco Di Gaetano con 256,26. Categoria 125 grammi, dove primo classificato è Carlo De Felice con 240,92, secondo Matteo Monti con 240,35 e terzo Luciano Giglio con 239,57. Passiamo ora alla categoria dei 100 grammi, dove primo classificato è risultato Luciano Giglio con 245,99, secondo Carlo De Felice con 239,14 e terzo Francesco Del Nero con 238,18. In classifica generale ha prevalso Francesco Del Nero con un totale di 985,07, mentre al secondo posto si è classificato Sandro Trasolini con 971,86 e terza piazza del podio per Francesco Di Gaetano con 967,40. Al termine di questa prova il CT Pietro Terraglia con il suo vice Paolo Muscas hanno comunicato le convocazioni per il Mondiale che si terrà in Portogallo dal 28 maggio al 4 giugno. Faranno parte del gruppo azzurro Filippo Montepagano, che è già stato campione del mondo, Francesco Del Nero, Francesco Di Gaetano, Sandro Trasolini, Angelo Ciacci, Luciano Giglio, Mirko Viani, Matteo Monti, Nicola Bonelli e Carlo De Felice. Lo stage si terrà a Coltano in provincia di Pisa il 14 e il 15 maggio prossimi. Parliamo sempre di Long Casting con il Gran Trofeo Femminile di Long Casting. Il 6 marzo scorso sul campo di gara di Latina con l'organizzazione del Latina Casting Club si è svolto il Gran Trofeo Femminile di Long Casting. La competizione era valida per la convocazione al Mondiale Femminile di Long Casting. Hanno partecipato quattro concorrenti in rappresentanza di tre società. La vincitrice della gara è risultata Vincenza Lubrano della società La Rosa dei Venti di Caserta, che ha realizzato 296,73 punti nelle due prove con 100 e 125 grammi. Al secondo posto si è classificata Rosa Lubrano della stessa società di Vicenza con 290,05 punti, mentre Francesca Brunetti ha conquistato il terzo posto con 201,02 punti. Torniamo ancora a parlare di pesca al colpo con un altro servizio che è stato confezionato per un importante trofeo, l'ottavo Memorial Marcel Van Denende, che si è svolto nelle acque del Canal Bianco a Loreo e del Adigetto a Cavarzere e si è svolto appunto domenica 10 aprile. Vediamo subito il filmato preparato dagli amici di Italian Fishing TV. Domenica 10 aprile si è svolta una delle competizioni più attese nel panorama agonistico nazionale. Il trofeo intitolato ad uno dei più grandi agonisti della storia della pesca, il berga Marcel Van Denende, evoluto dalla famiglia Tubertini per ricordarlo nel modo migliore. Nato e cresciuto nelle acque del circondaliare Valle Lepri, quest'anno il Memorial si è svolto in quelle certamente più tranquille e sicure, almeno dal punto di vista del pescato, del compressorio di Adria, con una formula rivista rispetto agli anni precedenti. Il Memorial Van Denende per la prima squadra classificata della pesca a colpo, il Memorial Simone Carraro per il primo assoluto della pesca a colpo, il trofeo Mauro Buzzoni per il primo individuale della pesca a feeder e la classifica speciale, sempre per il feeder, della gara della Digetto, riservata ai pescatori che non potevano pescare con fuil e verde vas. Presenti alla manifestazione Gabriele e Glauco Tubertini e la figlia di Van Denende, Michelle. Gran lavoro di organizzazione, brillantemente svolto da parte della GPO Imolese, della Lenza Loredana e dei pescatori padovani, oltre che per il giudice di gara Paolo Bettella. La gara principale si è svolta sul campo del Canal Bianco, che sta dando da tempo prove eccellenti in termini di pescato e regolarità e la bella giornata di sole ha certamente favorito i numerosi intervenuti provenienti da tutta Italia, con molti protagonisti interessati anche agli sviluppi tecnici in vista della prossima gara del CIS. Non c'è dubbio che ci sono squadre particolarmente attrezzate per affrontare questo canale e sicuramente una di queste è l'Oltrarno Colmich, che ha dominato anche questa competizione dall'alto delle sei penalità totalizzate. La squadra composta da Rudy Frigeri, Jacopo Fassini, Andrea Fini e Francesco Reverberi, che proprio in vista delle prossime prove del CIS hanno affrontato la gara in modo molto serio e impegnativo, impostando la pesca con lense piuttosto leggere da 5 a 10 grammi sulla pesca corta, visto che l'acqua era piuttosto lenta. E questa è stata la tecnica prevalente su tutto il campo di gara. Per quanto riguarda il secondo Memorial Simone Carraro, la vittoria individuale è andata ad Andrea Massarotto della CPT Barriera Nizza. Il Memorial Mauro Buzzoni si è svolto nel classico campo per il feeder, quello di Pianta Melon, che come sempre si è rivelato molto pescoso e tecnico. Ha vinto la gara Massimo Zaffi, un pescatore che ultimamente si è messo in grande evidenza vincendo il test match feeder del Pasinetti, facendo il primo di settore nel Pasinetti e appunto raggiungendo l'assoluto nel Memorial Buzzoni con 14.450 punti. Il forte agonista della Lenza Club Ravenna Matrix ha superato Cristiano Barbaro dei Cagnacci Colmice, secondo con 11.760 punti e Rino Borin della Torre Maver, terzo con 10.960 punti. Nella Digetto si sono sfidati sulla pesca feeder altri concorrenti per i quali non era concesso l'uso di fuel e verde vase. Ottima anche in questo caso la pescosità, a conferma della validità di tutti i campi della zona. Ben 12.790 punti, infatti, sono stati necessari a Gabriele Masini della Lenza Club Riccione Artico per vincere la gara davanti al compagno di società Luigi Facondini, secondo con 11.180 punti e Davide Pellegrini della Lenza Loredana Tubertini. Stava una bella gara, dai. Il canale è stato bellissimo, l'organizzazione della manifestazione è stata perfetta, c'è da prendere esempio perché veramente ha fatto un grandissimo lavoro l'azienda Tubertini e Michel Vandeneta a venire comunque dal Belgio, non è vicino, sicché insomma è una bellissima festa della pesca, il tempo ci ha assistito, quindi è una bellissima giornata, c'è soltanto a ringraziarli. Sì, senza altro, un bel campo di gara, l'acqua che a seconda delle maree corre, è un campo di gara diverso, un campo di gara diverso dove le situazioni cambiano di settimana in settimana, ostellato è più omogeneo, o più, però ostellato rimane sempre il campo principio, a mio parere. Parliamo ora dell'Italy World Cup del nuoto pennato. Successo su tutti i fronti per la nostra prova di Coppa del Mondo, svolta sia l'Ignano Sabbia d'Oro dal 18 al 20 marzo scorso. Nonostante uno scivolone regolamentare, Tarkato Khmass, riguardante i costumoni omologati che continuano a gettare sempre di più ombre e dubbi sul futuro dello sport in acqua più veloce di tutti. Oltre 400 gli atleti presenti, in rappresentanza di ben 63 team provenienti dall'intera Europa e dal Nord Africa, presente con Tunisia ed Egitto. Tra i risultati migliori evidenziamo i due record del mondo, ottenuti dalla ungherese Petra Senansky, nei 50 pinne con 21 secondi e 26, e da Jakub Yarolim, rappresentante della Repubblica Ceca, al nuovo limite dei 100 pinne con 42 secondi e 31. Insieme a loro, otto nuovi record italiani sono stati conseguiti nel weekend friulano, in particolare quelli di Guglielmo Alicicco, Silvia Baroncini, Stefano Coniedic, Riccardo Romano e le staffette 4% della record team Bologna Femminile, che con Silvia Baroncini, Giulia Bologna, Viola Donadello e Giorgia Di Credico, ha raggiunto il limite assoluto con 2 minuti 54 secondi 07, e della suite team Modena, anch'essa al limite assoluto stavolta, maschile, con Cesare Fumarola, Gianluca Allegretti, Fabrizio Agliolo e Giona Cristofari, autori di 2 minuti 29 netti. A completare il successo italiano, la vittoria nella classifica generale della record team Bologna. Inoltre il team bolognese si è imposto anche nella classifica squadre women e men. E parliamo ora di surfcasting, con i trofei di eccellenza Nord e Sud svoltisi il 18 e 19 marzo. Per quanto riguarda il Girone Nord, i campi di gara sono stati quelli Liguri di Spotorno, Merello e finale Ligure Varigotti. Le competizioni sono state organizzate da Blackwater, Circolo Nautico, Fornaci e Garisti 93 e hanno visto la partecipazione di ben 55 squadre da 3 atleti, in rappresentanza di 9 regioni. Le gare si sono svolte in condizioni di mare calmo e, come di consueto, i campi hanno risposto molto bene con una buona varietà di prede. Menole, pagelli, salpe, boghe, sugherelli, mormore, saraghi e occhiate sono state le specie più rappresentative. Sul primo gradino del podio è salita la ASD Surfcasting Adriatic Maver, che con una prima prova da 9 punti e la seconda da 8 e 17 penalità totali, ha superato di un solo punto la SPS Casting Club Blue Marlin. Al terzo posto si è classificata la APS dilettantistica Grossetto Colmich con 23 punti, mentre ben 3 squadre a 24 punti. ASD Surfcasting Lifestyle, ASD Diamond Club Trabucco e l'ARUS Club, sesta classificata. Per quanto riguarda invece il Girone Sud, il campo di gara è stato quello di Alcamo Marina in provincia di Trapani. 117 concorrenti iscritti in rappresentanza di 39 squadre. Questo è un campo di gara che nel 2002 ha anche visto la finale del campionato italiano individuale. Ottima risposta per quanto riguarda il pescato e la soddisfazione di tutti i concorrenti. Ottima l'organizzazione affidata alla APS dilettantistica Amici del Mare, ADS Gladius Club e ADS Polisportiva Selinon. Al termine delle due prove in testa c'è la ADS Gladius Club che nella prima prova ha realizzato 9 penalità dominando la seconda a punteggio perfetto con ben 3 primi. A seguire ADPS Brutia Team Shimano con 14 penalità e la ASD Surf Competition con 18 punti. E ora andiamo a parlare di una disciplina molto particolare ed avvincente l'hockey subacqueo. Dal 23 marzo al 2 aprile scorso si è svolto a Stellenbosch in Sudafrica il campionato mondiale elite di hockey subacqueo. l'Italia ha partecipato all'evento con la squadra che dal 2010 non prendeva parte a un evento internazionale. Incredibile successo per l'Australia che ha messo a segno tre medaglie d'oro. A seguire la Turchia squadra grintosa e fisicamente molto preparata e la Gran Bretagna che con grande tenacia e fino all'ultimo secondo ha battuto la blasonata Nuova Zelanda ai playoff. In campo femminile vince il Sudafrica seguito dalla Nuova Zelanda e dalla Francia. La nazionale italiana chiude il mondiale al tredicesimo posto. Dopo sei anni di assenza dalla scena internazionale il team risulta comunque giovane e con grandi prospettive. E parliamo sempre di hockey subacqueo con la prima giornata del campionato italiano assoluto di questa disciplina che si è svolta domenica 7 febbraio a Parma. Ad aggiudicarsi la serie Elite sono stati i campioni italiani uscenti di assetto variabile 1 seguiti dal club sub Cagliari secondi e da Altitudo Roma 1 che è arrivata terza. Nell'altra categoria quella della prima serie il primo posto è andato invece al nuoto sub Vignola bravo ad imporsi sia sulla società Eridania Sub che è arrivata seconda sia sulla seconda squadra di assetto variabile che si è classificata terza. A questo campionato diretto da Ezio Barbero hanno partecipato 15 squadre. I prossimi appuntamenti saranno a Bari e Torino. E ora parliamo dei primaverili di Apnea Indoor. Si sono svolti a Bari il 19 e il 20 marzo i campionati italiani primaverili di Apnea Indoor nelle loro quattro categorie. Nella dinamica senza attrezzi vittorie di Cristina Rodda e Andrea Vitturini. Nel campionato italiano di statica Diana Duca e Andrea Vitturini si sono aggiudicati le prime posizioni. Per quanto riguarda la dinamica con attrezzi pinne ancora Andrea Vitturini e Cristiana Rodda con Andrea che ha stabilito il nuovo record italiano. Ultima specialità la dinamica con attrezzi monopinna con protagonisti Cristina Rodda e Alessandro Zaccheo. E chiudiamo questo Tg con un importante comunicato della Fipsas che ha avviato nel mese di marzo una campagna per la pesca ricreativa in mare al fine di sensibilizzare i parlamentari e le commissioni agricoltura di Camera e Senato a modificare la proposta di legge Oliverio e Oliverio 521 e abbinate. Tutti i pescatori sportivi sono invitati a partecipare a questa forma di protesta che ha lo scopo di far recapitare quante più email possibili ai politici e al governo per affermare il dissenso nei confronti della proposta di legge Interventi per il settore ittico che introduce dal 2017 una licenza a pagamento per la pesca ricreativa in mare. La Fipsas confida sull'adesione di tutti i singoli appassionati e pescatori sportivi e ricreativi. Per aderire a questa forma di protesta basta andare sul sito della Fipsas www.fipsas.it ed entrare nell'area dedicata. E con questa notizia si conclude qui la prima puntata della nuova edizione del TG Fipsas. Vi ringraziamo per averci seguito un caloroso saluto e da tutti l'appuntamento e alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci. Sous-titrage Société Radio-Canada